Il Castello Bufalini di San Giustino figura nella lista dei siti e degli istituti che il Ministero della Cultura ha proposto all'edizione 2022 del Salone del Restauro, in corso di svolgimento a Ferrara, come uno degli esempi nell'ambito della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale. Si tratta di una vitrina di primo piano anche per la direzione regionale Musei dell'Umbria. Viene premiato così il serio impegno nella definizione di interventi integrati e multidisciplinari, mirati al restauro di significativi componenti del monumento, all'amplamento del percorso espositivo e al miglioramento della sicurezza nella struttura. Le immagini spettacolari del complesso architettonico composto da un edificio e dal giardino all'italiana mostrate al Salone presentano una prima fase di interventi riguardanti i porzioni dell'area verde e alcune sale affrescate. Il Salone Internazionale del Restauro di Ferrara è da sempre il principale punto di riferimento per aziende e istituzioni che contribuiscono alla tutela della storia e alla valorizzazione della cultura tangibile. Costituiscono infatti un momento di scambio e crescita di un settore imprescindibile per lo sviluppo economico e culturale italiano.